Anche i più bei capelli hanno bisogno di ENERGY PLUS. ENERGY PLUS, il trattamento rinforzante speciale DON, DER COST ECHNIC. ENERGY PLUS, frena la caduta e favorisce la crescita dei capelli. ENERGY PLUS, dona ai capelli forza e volume. ENERGY PLUS, di DER COST ECHNIC, energia e bellezza per i capelli. ENERGY PLUS, in farmacia.